Buongiorno mister, complimenti ancora per la bella vittoria contro l'Inter Potremmo dire che Davide ha battuto Golia Forse Davide in questo momento potrebbe essere Lauritè che invece di aver tirato la pietra ha tirato il gol che ha portato i tre punti Proprio di Lauritè volevo parlarne Questo ragazzo nell'ultimo periodo, o per meglio dire da aprile in poi, ha realizzato quattro gol Per cui insomma anche nel nuovo modulo che lei sta utilizzando, molto probabilmente avendo meno impegno di marcatura Si può esprimere al massimo Pensa che possa essere decisivo nei prossimi match Allora non sono abituato a pensare che un giocatore possa cambiare la partita Per me la squadra può indirizzare la partita in un senso o in un altro È chiaro che Lauritè ha delle qualità importanti Ma se non è sostenuto dai compagni Prima di tutto lui si deve dare da fare per far sì che la squadra rimanga squadra, compatta Un giocatore può fare poco perché, non so, Lauritè lo avevamo anche con Lecce ma con Lecce non c'eravamo E quindi tutti siamo così, ci siamo sciolti Ecco, per me il pensiero mio è questo Che un giocatore da solo fa poco o nulla La squadra insieme a quel giocatore con le qualità importanti che ha quel giocatore Allora riescono, diciamo così, uno esalta l'altro La squadra esalta il giocatore, il giocatore è chiaro che dà una grossa mano ai compagni Dunque abbiamo visto un Sassuolo finalmente operaio Nel senso che comunque si lottava e la maglietta era ben sudata contro l'Inter Cosa è successo dopo la partita di Firenze per avere questo gap di diversità? Ma è successo che, come abbiamo sempre detto, abbiamo una squadra di ragazzi che ci tengono molto E quindi ci tieni molto Hai preso delle sberle forti con Lecce e con la Fiorentina Ed è chiaro che, visto che sei un ragazzo per bene, serio, che ci tieni La squadra è una squadra seria che si impegna È venuta fuori la prestazione che abbiamo visto contro l'Inter Giustamente, come hai sottolineato tu, una prestazione di grande sacrificio Ecco, per me il Sassuolo può giocare anche un po' meglio Però si è notato quella straordinaria attenzione, quello straordinario impegno Che ci vuole quando giochi contro delle squadre di uno spessore molto elevato L'ultima per me Ovviamente siete in piena bagarre per la salvezza Il prossimo match importante contro questo Genoa che lei conosce molto bene Se non sbaglio l'ha ne dato per quattro volte Quindi sicuramente sarà una bella marcorde Quello che le volevo chiedere è che comunque non ci sarà da aspettarsi Un Genoa, diciamo così, senza nessun tipo di scopo Perché abbiamo visto anche contro il Mille ha rischiato di portarsi a casa la posta piena Che tipo di atteggiamento pensa di poter mettere in campo contro questo Genoa? Allora, giusto quello che hai detto perché per me il Genoa farà la sua partita Come deve fare, giustamente, con le qualità che hanno e con la serietà che hanno Perché intanto li conosco Hanno un pubblico che ti spinge dal primo all'ultimo minuto Perché lo stadio è sempre pieno E tutti sostengono la squadra E noi dovremmo fare quella partita lì Da squadra Dovremmo correre tanto Dovremmo avere la lucidità e la personalità di giocare, di attaccare Quando abbiamo la palla Ma tutto questo deve essere fatto di insieme Perché la differenza, come abbiamo visto, la fai non se hai un giocatore importante La differenza la fai se hai una squadra che è sempre dentro la partita Poi quando hai la squadra dentro la partita Hai anche dei valori che puoi mettere sul campo Ma prima di tutto ci deve essere quell'atteggiamento, quello spirito Che abbiamo visto, soprattutto per la fase difensiva Ma per me possiamo essere anche più bravi Nel gioco contro l'Inter Prego Buongiorno mister Te dopo, stacca Buongiorno Le chiedo se questa vittoria ha portato qualcosa di diverso anche nell'allenamento Se ha notato qualcosa di diverso Se adesso, lei diceva già la scorsa settimana che la squadra ci credeva Ma se adesso c'è una spinta in più Ma allora, è chiaro che la prestazione, la squadra, l'attenzione, l'umiltà che ci abbiamo messo La generosità E poi la prestazione è stata una buona prestazione Contro i campioni d'Italia Hai anche così avuto la soddisfazione dell'aver vinto Ti porta, ti dà energia buona Ecco, quello sì, ma tutti sappiamo che bisogna avere la stessa attenzione, la stessa umiltà E La personalità per fare una prestazione Una buona prestazione anche Anche a Genova Poi le chiedevo se Defrel sta meglio, se è convocabile Allora, no, Defrel sta meglio Probabilmente Probabilmente Riprenderà con la squadra la prossima settimana No, no, quelli che sono fuori sono quelli che sapete Domenico, Berardi, Castiglieco e Defrel Questi sono i non disponibili Buongiorno, mister Buongiorno, nessuno lascia la palla a lui Siete proprio dei delinquenti Secondo le sue disposizioni faremo chiudere al collega Giustamente Un atto di generosità Dunque, mi è piaciuto anche riguardare la partita L'ultima giocata in casa contro i campioni Anzi, la penultima giocata in casa contro i campioni d'Italia E devo dire che La penultima per l'Inter Effettivamente Dallo stadio e anche un po' dalle emotività Che in questo momento prevade tutti, noi compresi Non si segue benissimo Invece rivista, con più calma Effettivamente i suoi ragazzi hanno insistito molto Su tanti palloni Come ad esempio Il pallone stesso Quando Sassuolo riesce a tenere palla e ripartire Quindi mettendola in mezzo Ok, ha fatto una grande prestazione Ma nasce da una convinzione Effettivamente Che non si era vista Quindi nei dettagli Riguardandola Quella progressione mentale di cui parlava Si è notata E in tante altre cose Le faccio questa domanda Siccome è mediaticamente Non so per quale motivo Ma Sassuolo sembra stia sviluppando Una sorta di Odio collettivo Odio Tra virgolette Sempre di sport Parliamo Ecco, voi riuscite a isolarvi bene In questo momento Da tutti i commenti Sia quelli pro Sia quelli contro Quelli che comunque lo vorrebbero già Come dire Toccate quello che volete In una cauteria diversa Quelli invece che sostengono Che siano stati gli anni prima Ad essere troppo generosi Ecco la domanda Riuscite a fare Isolamento da tutto questo Dai risultati degli altri E pensare In maniera determinata Domani alle 15 Io penso proprio di sì Perché Perché le energie Vanno Vanno Così spese Durante la settimana Perché È chiaro che Se ti prepari bene Poi riesci anche a fare Una buona prestazione E la concentrazione Proprio sul Sul campo L'allenamento E la preparazione Alla partita Ecco questo è Poi è chiaro che Insomma Si legge Si ascolta Ma Ma questo poi fa parte Fa parte del momento Fa parte Di quello che Che stiamo Di quello che si fa E quindi Io credo che noi Si conviva bene con questo Importante per noi Come ho detto È preparare bene La partita Sapere che Per fare la prestazione Per essere competitivi Devi Devi mettercela tutta Devi mettercela tutta Insieme ai compagni Quelle sono le cose Che Ci rubano L'attenzione La concentrazione Tutte le altre cose Non è che Non siamo attenti O meglio Ecco Le conosciamo Le leggiamo Ma Finisce lì Prego Buongiorno mister Buongiorno Restando sul tema Non è un peccato Che si sia parlato Veramente Tanto Di tutto il resto E poco Però anche Della prova Del Sassuolo Perché poi alla fine Si è parlato Tra virgolette Di regalo Dell'Inter Che era la festa Scudetto Eccetera Però poi Non si è sottolineato Abbastanza Una buona prova Del Sassuolo E in base a questo Le chiedo anche Qual è il vero Sassuolo Quello delle prove precedenti Con l'Ecce Fiorentino O quello visto Più solido Più convinto Visto con l'Inter Beh Noi vogliamo Che Vogliamo vedere Questo Sassuolo Solido Attento Determinato E con Con una buona Qualità di gioco Noi vogliamo Vedere questo Sassuolo E' chiaro Che venivamo Da due partite Bruttissime Quindi era Era per noi Anche molto Difficile Diciamo così Perché Vieni da due partite Dove hai perso Hai preso anche Tanti gol E quindi È un merito Ulteriore questo Però Insomma Sappiamo bene Che Serve Serve Questo Sassuolo Ecco Con Con Le cose Che abbiamo Detto Invece Ascoltavo ieri Sia Sia Ranieri Che Di Francesco Volevano Chiedevano Perlomeno La contemporaneità Delle gare Poi Non sono stati Ascoltati Dalla Dalla Lega Secondo lei Sarebbe stato Più giusto Avere La contemporaneità Credo di sì Credo di sì Perché Adesso Arrivati a questo Punto Della stagione Sarebbe bene Ecco Che Tutti Tutti Si giocasse Più o meno Lo stesso Orario Perché È chiaro Che un risultato Può Perché intanto Funziona così E così Può condizionare La testa Di 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 Un'altra squadra Ecco Certo Le faccio l'ultima Da parte mia Sul Sul modulo Con l'Inter Abbiamo visto La novità Chiamiamola così Della difesa Tre Solo per affrontare L'Inter Possiamo vederlo Anche domani Grazie No Noi Ricerchiamo Ricerchiamo Intanto Come ho detto Bisogna Essere squadra Bisogna Coprire bene Il campo Bisogna Avere la personalità Quando è la palla Di giocare E di mettere In difficoltà Gli avversari Tutto questo Nel rispetto Delle qualità Individuali Quindi La difesa Tre O la difesa Cinque O quattro È Chiaro Che comunque Deve sempre Rispettare Ed esaltare Le qualità Dei giocatori Che vanno In campo Perché L'unico Però Come abbiamo detto L'unico Che Magari Qua in Italia Lo abbiamo sempre visto Giocare da esterno Offensivo Che è Laurentè Però in Francia Lui giocava anche Da secondo attaccante Ecco quindi Questo è un po' Però tutti gli altri Erano Sono Saranno Sempre messi Nel loro ruolo Prego Salve mister Ciao Che Sassuolo È lecito Aspettarsi Domani Genova E soprattutto La vittoria Contro l'Inter Ha dato Sicuramente Maggiore Credibilità E anche Un certo Spirito A livello Morale Questo può essere Importante Anche Pensando Al gioco Cioè Essere più Propositivi Meno Impauriti E sicuramente Può aiutare La fase Offensiva Perché Il Sassuolo Al di là Dell'importanza Di una certa Solidità Difensiva Deve comunque Proporsi Deve Cercare di Vincere In questo senso Guardate Pensate anche Gli altri O C'è soprattutto Da pensare E da guardare La gara Di Varassi Allora Guardiamo La partita Di Genova E Le basi Sono quelle Che abbiamo detto Della partita Contro l'Inter E' chiaro Che su quella base Su quelle fondamentali Tu devi fare Ancora meglio Ancora meglio Diciamo così Anche Anche in fase Difensiva Magari Non Non Essere Passivo Condizionare Di più Gli avversari Cercare di Metterli In difficoltà Prima che Arrivino Vicino la porta nostra E quando abbiamo La palla Avere la personalità La voglia Di ricevere la palla Di smarcarsi Di attaccare La profondità Ecco tutte quelle cose Che servono Per fare una bella partita E poi Vedere come va a finire Ecco però La base Per me Quella che si è vista Contro L'Inter Cioè La base Intendo L'attenzione La voglia Di lottare La voglia Proprio di Aiutarsi Insieme Quella è una buona Base Per cercare Di fare meglio Tutto il resto Faccio l'ultima Tanto Ancora Complimenti Per questo Clishit Che è arrivato Secondo la sua Gestione Questo modulo Che esalta Molto l'aurite Però esalta Anche la difesa Perché Con Bull È stato Veramente Impeccabile Con un cliente Scomodo Come l'autaro Per cui Questo ragazzo Pensa che possa Essere Definitivamente Inserito In questa difesa 3 Lui viene Dal Verona Che ha sempre Giocato Nella difesa 3 Poi dopo Alla Roma Ha avuto anche Un problema Fisico Che si è fatto male Però ecco È un ragazzo Che ha delle qualità Fisiche importanti È un ragazzo Che se sta bene Ha dimostrato Ha dimostrato In passato Ma Che è un giocatore Forte Quindi è un giocatore Forte Importante Che lui stia bene Importante Che lui si alleni E poi Dopo Le qualità Le qualità sue Diciamo così Sono Abbastanza notte E quindi Ha fatto solo Ha fatto solo Quello che sa fare E anzi A parere mio Può fare anche meglio Ha fatto una Buonissima partita Ha fatto anzi Un intervento Importante Non so se ve lo ricordate Contro lì La palla Mi pare Su Arnautovic Che ha fatto proprio Un intervento Da difensore Ecco Importante È mantenere L'attenzione La concentrazione Sempre molto Elevata Molto alta Perché il difensore Anche se ha Qualità straordinarie E non ha Sempre La spina accesa L'attenzione È proprio Perché per me È la prima qualità Del difensore È l'attenzione Quindi importante Oltre alle qualità Che ben conosciamo Importante Che sia sempre Molto attento In ogni In ogni momento Della partita Questo vale per lui Vale per tutti Gli altri difensori In generale Vale per tutti Ma per i difensori Un po' di più A voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti